E dunque con la slide 721 abbiamo terminato, ricordatevi i grandi insegnamenti che abbiamo imparato oggi. Noi siamo tutti una grandissima famiglia e assieme ce la faremo e vinceremo nel mondo del mercato globale. Non capisco però quel che esprimi, anche gli eventi online, sai, ci hanno rotto i coglioni. Ci troviamo alle otto, senza grande entusiasmo. Io vorrei uscire, ma non so con chi. Forse resto a casa a guardare un film. Ma sì, è che ci sarebbe un webinar su Zoom, interessantissimo. Io non odio la gente, sono più selettivo. Mi si nota di più se accedo al meeting senza webcam o se non partecipo proprio. Si capisce leggendo quel che esprimo. Guarda ti mando un vocale velocissimo perché adesso sto guidando. Praticamente è 7 anni fa. Considerando la condizione penosa in cui verteggia l'ero umano, è assurdo preoccuparsi di una questione marginale come lo sfruttamento degli animali. Altri stili andrebbero riconsiderati episodi controversi della nostra storia recente, tipo l'uccisione di Benito Mussolini. Io vorrei uscire, ma non so con chi. Forse resto a casa a guardare un film. Io vorrei parlare, ma non so con chi. Dall'analista non ci voglio più andare. Ma dai, anche online si può fare. All'efforzionato non ci voglio più. All'efforzionato non ci voglio più. Grazie.